Ci troviamo al Civico 31 di via Mengaroni in un'area di parcheggio che serve, tre condomini di questa zona, area di parcheggio al centro di una problematica che ci ha segnalato questa residente Cristina Sacchi, figlia di una cittadina residente qui disabile, che ha trovato delle difficoltà enormi in questi ultimi anni per quello che riguarda quello che sarebbe il diritto alla sosta di un disabile, soprattutto una situazione che è andata peggiorando negli anni. Purtroppo la situazione è questa, mia madre è non vedente e ha difficoltà ad ambulare, quindi abbiamo chiesto di poter avere un parcheggio anche invalidi, lei comunque deve essere sempre accompagnata da qualcuno e di conseguenza chi la viene a prendere deve per forza entrare qui nel parcheggio. Il problema qual è? Che purtroppo sono stati assegnati due parcheggi invalidi, ma non se ne può usufruire sia per un po' la posizione, sia perché purtroppo ci parcheggiano tutti quanti. Abbiamo chiesto di avere anche un parcheggio a pagamento e purtroppo siamo in lista da quattro anni ma ancora non si è liberato un posto. Abbiamo parlato con l'amministratore ma purtroppo non ha fatto nulla. Abbiamo contattato anche l'Unione Italiana Cecchi pensando che potessero fare qualcosa, ma anche loro non riuscivano a fare nulla. I vigili ci hanno detto che non potevano intervenire in quanto qui risulta proprietà privata del comune. A questo punto abbiamo contattato la garante dei disabili del comune di Pesaro che ha fatto in tutti i modi, ha provato in tutti i modi, ha mandato anche la pratica al consiglio comunale, ma anche lei non è riuscita ad avere nessuna risposta. La vostra quotidianità cosa presuppone? Di entrare qui e incrociare le dita? Praticamente sì, anche perché all'inizio abbiamo parlato con l'amministratore per trovare una soluzione, lui ci aveva anche detto lasciate nel frattempo, tanto si tratta solo che devono accompagnare mia madre, portarla dove deve andare e poi riportarla a casa, quindi si tratta di un tempo minimo. Ci aveva detto anche di lasciare la macchina nel mezzo, purtroppo però non sono tutti disponibili ad aspettare che mia madre salga in casa o scenda giù perché non lo so. Nella vostra esternazione di problematiche comunque avete trovato una certa disponibilità da parte del Comune di Pesaro e del Garante dei Disabili che però si scontra con un'altra problematica. Esatto, perché la Garante dei Disabili tramite le sue richieste e tutto quanto ha scoperto che comunque c'è un contenzioso tra la Chiesa e il Comune, praticamente la Chiesa dice che un pezzo di parcheggio spetta loro ed è un contenzioso che va avanti da parecchi anni. Io avevo chiesto la possibilità di spostare quel parcheggio invalidi perché comunque rimane inaccessibile ai disabili comunque sia e di portarlo più avanti al portone di casa dove abita mia madre. Però a causa di questo contenzioso non possono fare nulla finché non chiudono quello.